Buonasera Milano. Video di oggi Inter-Fiorentina, partita roccambolesca con molti gol da entrambe le parti. L'Inter affronta la partita con un 3-4-1-2, Eriksen trequartista, la coppia Lukaku-Lautaro davanti. La Fiorentina si mette a specchio perché non gioca con un 3-5-2 come ha detto qualcuno, ma con un 3-4-1-2 perché Buonaventura agisce da trequartista dietro Kwame e Ribery. La partita parte subito con un gol, pronti via 1-0 per la Fiorentina. Cambio di campo di Ribery su Biraghi che rientra crossa di destro, D'Ambrosio sale male, o meglio non sale proprio, e tiene in gioco sia Buonaventura che Kwame che scambiano prendendo in mezzo Colorov che comunque non fa una bella figura nella circostanza e 1-0 per la Fiorentina. Quindi partita che parte subito con i Viola in vantaggio. La Fiorentina gioca bene e Ribery gioca benissimo. Episodio da Var al 25esimo con un calcio di rigore che viene assegnato all'Inter. Poi però rivisto l'arbitro decide di togliere il calcio di rigore all'Inter e anche la munizione a Cáceres che aveva protestato molto. A parer mio giusto togliere il calcio di rigore ma sbagliato togliere il cartellino giallo a Cáceres che a parte meritarlo nella circostanza lo avrebbe meritato anche in altre circostanze. Un po' troppo duro come è al solito il difensore uruguaiano. Sul finire del primo tempo Eriksen fa partire in fascia Lukaku che è molto bravo a resistere all'urto del difensore. Fa partire Barella nella progressione che è una specialità del giocatore sardo. Barella porta palla fino al limite dell'aria, serve Lautaro che pur raddoppiato fa un gran tiro e segna l'1-1 per l'Inter. Nel secondo tempo parte subito forte l'Inter e presto arriva anche il 2-1 su una palla un po' a campanile in area e bravo Lautaro a difenderla molto bene da da Ambra Bat, saltare poi il giocatore e calciare in porta e a quel punto è fortunato perché trova la sfortunata deviazione di Ceccherini e 2-1 per l'Inter. Partita in cassaforte? Assolutamente no perché sale in cattedra il professor Frank Ribery, grandissimo giocatore, l'ha dimostrato sempre e a maggior ragione oggi. Una prima volta Ribery protegge palla dall'inutile marcatura di D'Ambrosio che l'unica cosa che potrebbe fare sarebbe un fallo. Su giocatore francese non fa fallo, Ribery tiene molto bene palla e serve Castrovilli che si è inserito, è in ritardo Brozovic su Castrovilli e Castrovilli pareggia e fa e fa il 2-2. Successivamente ancora un'azione molto simile con sempre Ribery e sempre D'Ambrosio che non fa fallo, in realtà poi Ribery attira su di sé molti altri giocatori e si libera Chiesa, notoriamente molto veloce che parte da lontano, Perisic pur veloce non riesce ad assorbire l'inserimento di Chiesa e Chiesa si presenta davanti ad Andanovic e con uno scavino fa il 2-3. Quindi partita incredibile. Partita incredibile ma che diventerà ancora più incredibile perché a quel punto Conte fa una rivoluzione e cambia 5 giocatori, fa entrare Sensi, Nainggolan e Vidal, quindi cambia completamente tutto il centrocampo, mette Sensi trequartista con Nainggolan e Vidal a fare gli interni, inserisce Sanchez ed anche Hakimi, passa in pratica a una difesa a 4, gioca un 4-3-1-2 all'arrembaggio praticamente e parte una seconda rimonta dell'Inter. Al minuto 86 su una palla lanciata per Lukaku, Lukaku fa sponda per Sanchez che pesca con un gran lancio Hakimi, molto bene Hakimi, cross in mezzo del marocchino e Lukaku anticipa tutti e va a fare il 3-3. Incredibilmente dopo meno di due minuti calcio l'angolo per l'Inter, battuto corto, palla per Sanchez che crossa, palla anche deviata ed Ambrosio arriva in anticipo su Vlaovic, molto più alto di lui ma certamente non un difensore, quindi 4-3 di Ambrosio fino a quel momento fra i peggiori sicuramente, però poi di fatto uomo partita. L'Inter vince la partita non meritando di vincere, nonostante sia bello vedere queste rimonte, però diciamo la verità, la Fiorentina non meritava assolutamente di perdere questa partita e Ribery è uscito tra gli applausi, c'erano solo mille spettatori ma io credo che se fossero stati 80.000 avrebbero applaudito in 80.000, esattamente come successe l'anno scorso quando la Fiorentina sbancò San Siro battendo 3-1 il Milan e Ribery uscì tra gli applausi degli spettatori ancorché tifosi del Milan. Allora domanda finale a questo punto, ma Ribery non interessava proprio né a Juve né a Inter né a Milan o almeno a una squadra un po' superiore alla Fiorentina? Rispondete qui sotto, condividete questo video con i vostri amici, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti!